L'impiego dei key performance indicator, altrimenti i detti indicatori non finanziari o non financial indicator, nei sistemi di misurazione delle prestazioni delle aziende è un tema dibattuto da tempo in letteratura. Molti sono stati i modelli suggeriti da vari autori in ottica di superare i limiti, tipicamente i limiti delle misure finanziarie che sono inerenti al loro stimolo a decisioni di breve termine senza curarsi della generazione di valore di lungo termine. Tra i modelli mi piace ricordare dal punto di vista aziendale il più famoso è sicuramente la balance scorecard, ossia l'idea che le misurazioni, le prestazioni di un'azienda siano da misurare lungo quattro prospettive, la finanziaria, quella dei clienti, quella dei processi e quella di innovazione e apprendimento. Piuttosto che ai modelli che guardano a questo tema in ottica di integrazione tra le misure finanziarie e le misure non finanziarie nella comunicazione ai mercati, si pensi al movimento degli integrity reporting alla sua attenzione nel chiedere che l'azienda abbia un flusso comunicativo capace di rendere chiaro il proprio business model, dalle determinanti non operative ai risultati di valore generato, fino ai risultati di corporate social responsibility, a quella che viene chiamata la triple bot online, cioè l'idea che l'azienda debba essere responsible anche sulle performance environmental, social e di governance. Quindi l'idea di utilizzare degli indicatori non finanziari è da tempo suggerita come un'idea vincente per la qualità delle decisioni manageriali di un'azienda. Molte ricerche dimostrano però che il solo impiego degli indicatori non economico-finanziari non genera grande valore. Spesso queste sono operazioni più di macchiage comunicativo, piuttosto che di reale impiego di questi indicatori all'interno della gestione. Tre principalmente sono i fattori alla base di un utile impiego di questi indicatori all'interno dell'azienda. Prima di tutto non basta misurare le performance non finanziarie, ma è necessario che ci sia una chiara relazione di causa-effetto tra i diversi indicatori e che queste relazioni di causa-effetto spieghino il business model aziendale. Quindi l'idea di avere attenzione alla rappresentazione, alla ricerca del business model aziendale e delle relazioni tra performance indicator è chiave nell'impiego di questi indicatori. Il secondo punto chiave sottolineato dalla letteratura è l'impiego degli indicatori non finanziari lungo tutte le fasi del ciclo di controllo. Non basta misurare le performance non finanziarie, ma per generare valore bisogna anche gestire le performance non finanziarie, ossia rendere tutte le fasi del ciclo di controllo target setting, budgeting, planning, reporting, rewarding, informate anche dalle misure non finanziarie. E da ultimo uno dei punti chiave è che queste misure non financial devono avere un focus sugli asset in specie, sugli asset intangibili, perché queste sono al cuore della competitività delle aziende. Quindi non basta misurare le performance non finanziarie, ma bisogna avere almeno tre attenzioni per riuscire ad integrarlo all'interno della gestione aziendale. Questo è un tema chiave se si vuole che si generi valore tramite l'impiego dei KPI all'interno dei processi decisionali aziendali. Grazie a tutti.